Ciao a tutti ragazzi, sono Karma, oggi mi trovo alla Maison, a casa, una bella domenica passata nel focolare domestico, in ambiente domestico, non ho proprio voglia di uscire oggi. Mi piace passare la domenica a casa perché la domenica è solitamente il giorno che dedico alla pulizia della casa, alla manutenzione della casa e ad alleggerire il backlog della to-do list che nel corso della settimana si è popolata e che non ho avuto il tempo di smarcare per via degli incombenti e delle intemperie della vita settimanale Monday to Friday. Bene, come vedete un nuovo grigoro per decorare la mia camera, il mouse RGB. Non potevo non avere un qualcosa di RGB in casa perché so che è uno stilema molto diffuso fra la Generation Z. Si può anche cambiare il colore, cambiare il pattern d'illuminazione, ce ne sono quattro, questo è quello più soave diciamo. E anche lo sfondo dello schermo, vedete? È tratto da Cyberpunk 2077 ed è animato. È disponibile nella libreria degli sfondi screensaver di, com'è che si chiama questo programma? Di Steam Wallpaper Engine. Eccolo qua. Lo trovate a, mi sembra, 3,99€ su Steam. Bene, bene, è l'1.50 e mi sono alzato un po' tardi e adesso è tempo, è tempo di mangiare, è tempo di cucinare. Tanto sono rimasto, sono rimasto un po' qui a vedere YouTube dal, dal televisore della sala. Vedete il mio acquario? Non ve l'ho ancora fatto vedere ma è, ce l'ho da ottobre del 2020 però questa nuova configurazione con i coralli è nuova. L'ho appunto ultimata a dicembre dell'anno scorso. Ho preso un nuovo pesce che continua a nascondersi però, sarà ancora un po' timido. Dov'è il pesce arancione che, eccolo lì, il pesce più grosso però si nasconde, non vuole, non vuole palesarsi. Eccolo lì, vedete? È lui. È Fibas. Oggi voglio mostrarvi il mio pranzo e voglio annunciare che ho deciso di incorporare nella mia dieta dei pasti vegetariani, anzi vegani. Quindi penso o due o tre pasti a settimana saranno vegani, anzi in realtà non pasti, non pasti completi, ma semmai secondi piatti, pietanze. Ecco, in termini di fitness la fonte di proteine per due o tre volte a settimana sarà plant-based, sarà di origine vegetale. Qual è oggi la fonte di origine vegetale che ho comprato ieri? È il seitan alla piastra, ok? Inizialmente pensavo che il seitan fosse sempre un prodotto a base di soia, ma ho scoperto che in realtà deriva dal glutine del grano. Giusto? Sì. E questo qui in particolare è con salsa teriyaki. Non ho capito se è già aromatizzato con salsa teriyaki oppure se c'è un piccolo flacone di salsa teriyaki all'interno. In ogni caso ho scelto il seitan perché era tanto che non lo mangio, saranno anni che non mangio il seitan ed è molto molto proteico. Infatti vediamo che, dov'è? Ok. Per 100 grammi di prodotto abbiamo 25 grammi di proteine. E di primo piatto c'è questa pentola Vok che si può usare per fare il riso saltato con della pasta e frutti di mare che non è ovviamente vegano, ma come vi ho detto i tre pasti vegani alla settimana, due o tre, si riferiscono soltanto alla pietanza, alla fonte proteica. Perché ho fatto questa scelta? Perché ritengo sia importante dare il mio contributo un po' a ciò che c'è di buono nella causa vegana o vegetariana, ovvero il trattamento più etico degli animali e anche la maggiore sostenibilità ambientale. Però al tempo stesso non voglio diventare completamente vegetariano, vegano, non voglio privarmi completamente di una comunque di una intera categoria di alimenti perché ovviamente questo a mio avviso ridurrebbe drasticamente in generale la qualità della vita e sono anche sicuro che comunque dobbiamo trovare un modo meno drastico rispetto all'eliminazione completa dei prodotti di origine animale per risolvere i problemi che la causa vegana ha sollevato. E poi ovviamente il diventare 100% vegetariano, vegano mi precluderebbe la possibilità di provare le diverse cucine etniche, cucine di diversi paesi, cosa che mi piace molto fare, mi piace molto viaggiare e quando non viaggio ogni volta che vado in un ristorante qui a Milano quasi sempre è un ristorante etnico che non ho ancora provato. E poi mi immagino il mio secondo paese che sono le Filippine, mi immagino provare a essere vegani in quel paese sarebbe impossibile perché il consumo di prodotti animali è davvero onnipresente nella cucina filippina, quindi sarebbe impossibile ogni volta che viaggio lì assumere un numero sufficiente di calorie e avere una dieta sufficientemente varia. Per quanto riguarda invece le motivazioni più etiche riguardo all'uccidere gli animali, so che non ho non c'è abbastanza tempo in questo breve vlog per parlarne in modo approfondito ma in poche parole diciamo in sintesi ritengo che siamo inseriti all'interno di una piramide, di una gerarchia di dominanza dove ciascun animale per sostenersi, per sostenere la propria vita deve svolgere il ruolo di predatore, ok? Deve sostenersi cibandosi di altri animali, questo è un meccanismo fondamentale e strutturale del mondo in cui viviamo, della natura in cui viviamo. E ovviamente c'è da pensare che noi, in quanto Homo Sapiens, non siamo da sempre stati in cima a questa piramide, eravamo anzi nelle caste inferiori, prima della rivoluzione tecnologica, prima dell'invenzione ad esempio del fuoco o di tutti gli strumenti che ci consentono di dominare le altre forme di vita. Quindi un po' la giustificazione del cibarsi, diciamolo apertamente, del macellare, di uccidere altri animali per cibarsi è proprio questa logica onnipresente del mondo naturale, ok? E poi c'è anche da dire che vari studi scientifici comprovano, mostrano come il cibarsi di carne abbia reso il nostro cervello più grande, ok? Ci abbia consentito uno sviluppo cognitivo che non sarebbe stato possibile se ci fossimo cibati solamente di piante e di tuberi e di bacche, solamente di alimenti di origine vegetale. Poi, oltre a quello che ho detto, l'altra motivazione è che, nel mio gusto personale, quasi tutte le pietanze di origine vegetale non siano buone, saporite e piacevoli da mangiare come quelle di origine animale. Ad esempio, tutti quei sostituti della carne sono usciti tanti ultimamente, quelli che sono ad esempio a base di proteine del pisello. Ecco, sì, ci possono stare come parti integrative, per così dire, della propria dieta, giusto per integrare un pasto vegetariano, ma non posso mangiare quelle cose tutti i giorni come sostituto permanente di prodotti animali, perché non hanno semplicemente lo stesso sapore, hanno un sapore meno piacevole. Cosa ne penso di Attack on Titan? Sicuramente un anime brillante, brillante. Un anime brillante, ma non un capolavoro come, ad esempio, Evangelion. E dato che io sono un grande fan di Evangelion, Evangelion è il mio anime preferito, ho notato diverse somiglianze con Attack on Titan. Sicuramente Evangelion è stato un'ispirazione per l'autore di Attack on Titan. Prima fra tutte, direi, la natura dei giganti, che in qualche modo sono simili all'Eva di Evangelion, quindi dei giganteschi umanoidi che si possono controllare da una stazione di pilotaggio presente dentro la nuca della creatura. E anche altri punti di contatto, come ad esempio il finale della storia è molto simile a quello di Evangelion, con il piano di sterminare una fetta consistente dell'umanità, nel caso di Evangelion. Tutta l'umanità in una sola entità per il progetto di perfezionamento umano, mentre in Attack on Titan c'è il piano da parte di Eren di sterminare chiunque al di fuori di Paradis. Ci sono tante somiglianze fra i due anime, ma ritengo in ogni caso che Attack on Titan sia un'anime sicuramente brillante, ma non a livello visionario, artistico e creativo di Evangelion.